Sì, di un'azienda importantissima, Fincantieri, che tra l'altro è un'azienda pubblica controllata al 30% dal tesoro, una delle più grandi aziende del nostro paese, che dà da lavorare direttamente e indirettamente in Italia a più di 30.000 persone e da questo punto di vista con un'azienda che ha un portafoglio ordine pieno, che può lavorare ben oltre il 2020 e che oggi minaccia che o si accettano le condizioni che lei vuole, peggiorando gli orari, riducendo i salari, i nuovi assunti, pagandoli meno, altrimenti potrebbe portare queste produzioni via dall'Italia. Stiamo parlando di un'azienda pubblica, insisto, su questa cosa ed è per questo che noi diciamo, dopo decine di incontri che abbiamo fatto, è il momento di cambiare registro e pensiamo che vanno ripristinate le condizioni perché noi, più dell'azienda, vogliamo che si faccia un accordo e che si continui a produrre sempre meglio nel nostro paese.